C'è stata una specie, sono appena alzato, c'è stata una specie di tromba d'aria Vento che arriva, polvere Volato il tassonetto Tempo chimico La mia madre gli è volato tutta quella cosa che gli hanno messo a cazzo La mia tiene, vedi? Perché l'ho messa io Mamma mia, tutto negli occhi se ne va Tutto a sta cazzo di cos E quel coglione là, perché gli occhiali Cos'è da pazzo Qua è passata un'altra volta la profumatrice Questa delle pulizie è la profumatrice Io cerco di fare le cose bene La gente cerca di fare le cose bene Di arrizettarsi le cose E loro fanno le cose finte Arrizettano male Si può essere precisi con gente che non è precisa Ripeto, gli occhiali ce ne sono mille motivi Per cui una persona si protegge gli occhi Lo sguardo Come cazzo vuole E questi individui Che dicono queste cose Stanno proteggendo il terrorismo Perché gli occhiali Perché gli occhiali sempre Sono per il sole Ma vai a fare bocchini Allora Guarda Ho spolazzato tutto Ora questo lo piego E lo metto là Ma devo andare a comprare un cornetto Da settembre Questo Ha spazzato via E se piove Ma non c'è questo tempo Si va a infilare Tutto dentro Guarda come hanno lasciato Se piccate qualche mattone a qualcuno in testa Questi sono anni Questo è il tempo Logicamente io ce l'ho Con quelle forze dell'ordine Che hanno agito contro di me Perché? Perché non sono forze dell'ordine Perché hanno favoreggiato il terrorismo E non sanno loro corrotti E manca anche E i mafiosi E i corrotti Non sanno che dietro Hanno il terrorismo Perché hanno favoreggiato il terrorismo Quindi inutile che continuino Ancora Contro di me Mi devono risarcire Capito? Risarcire Risarcire Perché mi hanno levato Immotivatamente Vent'anni di figli E non solo mi hanno cercato Di sequestrare Di rabbinare Di fare saltare la bomba cardiaca In più Mi hanno offerto Dei lavori Mettendomi in condizioni Nei loro ambienti Questi Signori E signore Che ci dimentichiamo Ci sono i magnacce Ci sono le puttane In Italia Però sono in mezzo alle famiglie Di mettermi in condizioni lavorative In cui dopo aver fallito Di avermi fatto saltare la pompa cardiaca E di farmi dei danni Di sequestrarmi Di spregiarmi Di spaccarmi il naso con un pugno E di fare queste cose Mi hanno messo in condizioni lavorative Chi direttamente Chi indirettamente Di fare queste cose Come L'amministrazione Di un condominio Inutile farmi i sistemi Di controllo Questi sono soldi Rubati Alla gente Perché? Perché sono in mano A Mafie Che favoriscono Il terrorismo Come Il dissesto Ideologico Il dissesto ideologico Come Tutti questi problemi Legati al clima Che non risolvono Anzi Anzi Non sanno risolvere Anzi Anzi Spasciano tutte cose Anzi Non fanno manutenzione Non fanno un cazzo Perché Rubano i soldi E li buttano In altre cose Anzi Facendo così Favoriscono Il terrorismo Perché questo Che io Ho subito È terrorismo E non mi hanno fatto fare Neanche la denuncia Per terrorismo Sono venuti Contro di me Hanno imbrogliato Sul mio lavoro Hanno imbrogliato Sui miei figli Hanno imbrogliato Sulle proprietà Di mio nonno Hanno imbrogliato Sulla mia vita Hanno imbrogliato Su questa nuova Che neanche lei Lavorava Nonostante Dieci ore E dodici ore Questi qui Anche se li trovi Con una minchia In bocca Una nel culo Nelle orecchie A prendere A ciucciare Merda A leccare Buchi Con un buco Di culo A stucarselo Questi Riuscirebbero A rappresentare Anche che Questa macchia Che ho io Qui Con tutti Stinei Quello Che cazzo È stato Lo spinello Mio Capito Questi sono Dei Ciarlatani Assassini E utilizzano Sti scagnozzi Secondo voi Io ce la posso avere Col poliziotto Col carabiniere Col magistrato Con l'agente Con l'amico Con lo stadio Con la politica Con le cose Così Cioè vi sto parlando Di fatti concreti Accendiamo una telecamera E parliamo faccia a faccia Vedi che te la rubano Te la levano Sono dei I cosi vanno fatti In tribunale E anche in tribunale Vi prendo il foglietto E vi faccio vedere Che voi Avete dichiarato Solo Puttanate E la verità Non l'avete scritta Puttanate No dice no Non sono cose ben precise Niente Lontanissime Dalla realtà Ora mi vado a comprare Un cornetto Al bar Logicamente al bar Con scontrine e cose Perché se gli mettono Qualcosa dentro Per dire Vado lì E glielo spacco Nella testa Giusto Cosa che per strada Non puoi fare Per questo La mia logica Ho cercato Di avere lo scontrino Di andare a comprare I semini Per evitare Di ammazzare qualcuno Capito? Ma finirà così Anche Cioè finisce così Anche però Con lo scontrino Almeno Hai capito che gente È questa Hai capito che cazzo Di gente Sono soldi Che stanno rubando Alle persone Piove Non fanno nulla Nelle strade Lavori Tu ti spacchi il culo Non faranno mai nulla Per fare qualcosa di bene Promettono Fanno Dicono Anzi Lasciano le cose In maniera che succede Un dramma E poi arrivano loro A salvare Nel dramma Che hanno loro Creato E non salvano un cazzo Perché sono incompetenti E non vogliono neanche Capito come funziona Questa gente Questi stanno rubando Stanno rubando Alla gente Stanno rubando Voi pagate Gente che Ruba E favorisce Terrorismo Anche i mafiosi Cari mafiosi Cari corrotti Siete fottuti Perché questa gente Mantiene terrorismo Terrorismo Non c'è bisogno Di dire qualcuno Che sta cadendo Il muro Per capirlo Cioè non c'è bisogno Di Che viene Uno vestito Con una divisa blu Il magistrato Il poliziotto Il carabiniere Per dire Che quel muro lì Gli cade un mattone In testa Ma a questi Non gliene ha fatto il caso A questi Non gliene ha fotte Un cazzo Non gliene ha fotte niente Non gliene ha fotte niente Perché hanno tutto il loro giro Del poliziotto Che firma la cosa falsa Il carabiniere Che firma Della cosa falsa Questi Ti ho detto Li trovi A succhiare La merda Dal buco Del cui Non c'entra Né destra Né sinistra Né centro Perché sono Finti In Italia Finti Finti Poi quando sento Destra Io Quando sento Sinistra Mi viene Mi viene Nipud Perché è finta Quando sento Destra Mi viene Nicchia Tittica Ma è adattato Tutto Quando sento Centro Mi viene Nipud Perché sono Cose Finte Finte Poi movimenti Cosi Finti 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 Ma chi glielo sta dicendo Se poi hanno Tutti il medico Il dottore Che scrive Il falso Dio Buona vita A succhiarvi La merda Della gente Come vi insegna Il vostro stato Soldi rubati In mano A dei criminali Tecnologia In mano A criminali Col terrorismo In più In mezzo Chi lo sa Lo sa Chi non lo sa Poi lo scoprirà Le denunce Le devo fare io Le ho fatte io Anche se Hanno cercato Di non farmele fare Tutto quello Che scrivono È tutto falso Lo posso Testimoniare Foglietto Pezzetto Non è che ci vuono anni In poco tempo Vado a rintracciare La persona Gli chiedo Gli faccio E vi faccio vedere Che è tutto Quello Su di me Quindi pensate Su di voi I miei figli Sono dannifichi Ma non lo ha E ancora parlano Mi levano il telefonino Vengono dentro casa L'unica politica Che ci può essere È quella internazionale L'ONU Nostri Sti charlatane Qua Di terrorismo Mafia E porcherie Sitta Cali Per giunta Mi venivano Cali E pazza Per giunta Mi venivano A toccare A mettere la mano Qua Cioè Mi cercavano Di colpire Non è la prima volta Che mi capita A strofinarsi Questa è gente Te lo dico io Provaci Provaci Con lo sconcino Do a un filo Una ucca Provaci Capito perché Ho evitato Mercati neri E gente Di cose Provaci Vediamo tutti questi foglietti Di carta Dove te li infili Questi vogliono i morti Andavano a comprare qualcosa Guarda 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 Il cassonetto Dove è finito Ancora credete a sta gente E che la gente È talmente tanto rincoglionita Guarda 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 Quaccino Ht Credito La destra La sinistra Il gay Il cosa Ancora non avete capito Non sono queste le tematiche La tematica è terrorismo Istituzionale La tematica È terrorismo istituzionale Aspetta Mi levo da qua sotto Corrisponde con quello Guarda Vedi che Non c'è manco la cosa Mio nonno Sarà stato rincoglionito Dal fascismo Guarda È una brava cazzano Questo Guarda quanti luciano Non credo che Quando ci è arrivato L'aumento di bolletta Un mese solo Si dice La Russia La cosa Io non avevo niente Attaccato a casa Ma non credo che Che è stato Non lo so Siccome loro avevano Flex Trapani Non credo che Si sono attaccati Alla corrente Queste cose Non le taglio io Dove passano le macchine Non le taglia nessuno Qua l'ho dovuto Piallare io Vedetevi i video Perché se no La macchina sbarca Pagare sta gente Te la devi cercare Significa pagare il pizza Alla marcia Vediamo che cosa è successo Vediamo che cosa è successo Anzi di qua niente Che dice Zona residenziale Ma allora sono I ragazzi Plec Ma quindi questi Stanno amministrando Qua il mio Manda Ma pigliatele in culo Forze dell'ordine Logicamente Avete capito Con chi ce l'ho Con chi è contro di me Con chi è agito contro di me No ma noi L'abbiamo fatto Per il tuo bene Quindi voi mi avete ammazzato Per il mio bene Come a mio zio Dove ho orecchia Binominato Quindi tu hai favorito Mia moglie Rocchi Avete imbrogliato Al lavoro Su di me Per il mio bene Cioè tu mi ammazzi Favorisci una cosa E mi ammazza Per il mio bene Cioè Con la bocca Tu puoi dire Quello che c'è anche Supercalifragilistica E spirale Top shit Merda shit Questo Gli hanno insegnato Agli italiani Ah uccaricono C'è una confusione Tra arte E realtà Arte e realistica E' una realistica Realtà Che può essere anche Espressa sotto forma artistica Ma realistica La gente che ti ammazza E dice E lo fa per il tuo bene E vabbò Si sa che in Italia Deve finire a morte O sconsigno La differenza Tra me e tanta gente E che io non sono morto E che questi pagano il morto Capito Questi vogliono i morti Gli morti Gli sfregiati Le persone La differenza Che io Ancora non sono morto Ma vogliono i morti Quindi vediamo ora Cosa deve succedere Per prendere il cornetto Andato di là Mi ha imbottito il cornetto Mi ha imbottito il cornetto Perché O lo sconsigno E se ci sono Anche Ma tu hai Ma mia di perseguizione Quindi terrorismo La mafia Gli assassini E su Questo Questo poliziotto Mi ha detto Quindi tu che hai la pistola Hai mania di persecuzione Di perquisizione Tu che giri con la pistola Hai mania di persecuzione Ma questo Dove l'hanno studiata La giustizia Un nano ha studiato Nei film I pilo A banca In banca L'avranno studiato Quando andavano in banca A ritirarsi nel banco Ma Mania di persecuzione Ti faccio nome Cognome Circostanze In situazioni E tu che hai la pistola Scusami Hai mania di persecuzione E tu che giri in divisa Chi fa Non hai vestito La casa E quelli che girano In borghese Chi fa Non se lo cambiano I vestiti Non se li cambiano I vestiti Non lo so In che paese Di idioti Col bollo di stato Dobbiamo New York Guarda 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 New York Quagio cane Quagio iatt New York Spazzatura Sporco Loro avranno la risposta Che loro lo fanno Per mestiere Per mestiere Per questo hanno la persona Ma il mestiere Ci sono quelli fatti bene E ci sono quelli fatti male Capito? E se lo fai per mestiere Fatto male Sbaglio due volte Uno Perché sei un uomo O una donna Che non vale un cazzo Secondo Perché lo stai facendo Per i soldi E' fatto male Quindi si chiama Concussione Rubare Avete capito La responsabilità Che c'è Nel prendere i soldi Tutti i mesi A fine mese Diciamo Ah biglietto No Per ogni tanto Hai fatto male Il tuo lavoro Diciamo Tutti i mesi Per anni Fatto male Sono cazzi Da cagare In un paese civile In un paese mafioso Quando poi Lì si cancella Si fanno il carcere Ma non Fanno passare il tempo Fanno passare gli anni Come il fatto di violenza Su Zani Ormai il tempo è scaduto Era scaduto Ha fatto passare gli occhi Vedendo Associazione a delinquere L'Italia Ma col terrorismo Non funziona così Quindi Fate quello che dovete fare Guardi Io ho fatto tutto Quello che non avete fatto Siete voi Quindi Date vita a fare Nel bene Forse dopo Sistemate tutto Io farò fuori Cornetto originale Buono Tanta roba Ma non troppa Indesiderate Diceva Loro Non l'hanno fatta apposta Sono così le cose E così il tempo E così Perché non lo sai Che l'Italia Me ne sono accorto Dopo anni Poi queste sono le scuse Che funziona così Che in Italia è così Che loro fanno così Che funziona tutto così E perché non lo sapete Queste sono le scuse E poi vai a scoprire E poi vai a scoprire Qual è la verità Chi l'ha fatto apposto Chi non l'ha fatto apposto Così funziona In un paese In cui è tutto finto In cui le cose funzionano finte Però quando si acchiappano Cercono di rubare soldi Riprendere soldi E rubare Io intendo Quando la cosa è consistente Non chi ruba Una pera da un albero Chi ti va a sgamare L'euro O il mille euro O nei giri grossi Alla fine arrotonda Quei dici mila euro In più l'anno Io sono sincero Ora non lo so Sto parlando a bandera Ma chi ha una consistenza Nel rubare le cose Più quelli spicci Quelli piccoli Qua non si capisce più un cazzo Ma il problema più grave È il danno Il danno Continuo Perpetuo Continuo Moltiplicato All'ennesima Che fanno Perché passano gli anni Quando viene qualcuno A me a parlarmi Di figli Io Sinceramente Gli farei inghiottire Le parole Che dice Perché non sono figli Non sono figli Lo potevano essere In una misura Magari Ridotta La stessa cosa Gli farei inghiottire Per il lavoro Per i soldi Il mio nono Perché il tempo Una volta Che passano Poco tempo È un conto Una volta Che ti fottono 20 Più di 20 anni Ora vedete Da quando sono successe Queste cose Quanto è passato Quasi un anno Ma tu cosa hai fatto No no io Tu Voi Cosa avete fatto Perché È facile parlare Puntare il dito Dov'è la verità Dov'è la verità Voi cosa avete fatto Prima De come mai Nonostante io Ho il documento Che questa persona Cosa avete Per il mio bene Per il mio bene È la stessa cosa Come se uno Vi ammazza E vi dice Per il vostro bene Quello dell'umanità Come la parola Figli Dipende che cosa Cosa attribuisci A questa parola Che cos'è Un conto corrente Uno scambio Un contenitore Che cos'è Il trofeo Che cos'è Che cos'è Che cos'è Per loro Il valore Di questa parola È gente Che ha i valori Tutti sfasati È gente Che ha i valori Tutti sfasati Io sfido Chiunque A venirmi a dire Figli indrocchie Figli Figli di che Che poi Ve l'ho detto Quando stava con me Non era così Come non era Cioè ci sono talmente Tante prove Come questa Che è stata qua Non era così Con i loro pregi I loro difetti Ci mettono Entrano nelle case Fanno i giri Ti offro Che te pigli Che te pigli Per cazzi suoi Sbagliando pure Somministrare An altre persone E se ne vanno fuori Di testa E poi cambiano Poi gli fanno Anche questo Anche quello Le minacce Io ho questa visione Di quello Di molta gente Tanto poi I medici Magistrati Le cose Scrivono Una cosa Per me Poi ti stalkizzano Ti fanno E sicuramente Anche i poliziotti Che valore date Figli Un oggetto Di un sequestro Di persone Di una tangente Un racconto falso Sul lavoro mio Sulle qualità Di una persona La figlia Faceva magie Il dono Dell'ubilità Oppure E allora Perché sei stato lì Te ne andavi Questi picciotti Con la bocca Queste gente Qui gli hanno insegnato Che hanno Una confusione enorme Tra amicizia Lavoro Arte Realtà Cose realistiche Cose realistiche Han è un popolo Di fanfaroni L'unica cosa Che hanno insegnato Agli italiani Essere dei fanfaroni E fa esserlo Per lavoro Vuol dire Essere doppi Fanfaroni Per il bene Per il bene E gli assassini Quando tu mi ammazzi Per il bene L'unica differenza Sono vivo E ve lo sto raccontando E vabbè Continuiamo E' talmente Tanto Depersonalizzante Depersonalizzante Significa Che poi Passa il tempo Risponde un altro Secondo mia zia Secondo lo zio Secondo mia madre Secondo un poliziotto Secondo C'è tutta gente Che Non sa Se ha indagato E ha fatto qualcosa Probabilmente Ha indagato male Non sono informati bene Hanno preso delle cose bene L'unica cosa A cui non fanno riferimento Alle parole mie E ai fatti miei Alle prove Eppure avendone Nel tempo C'è Oh la sfera magica Sono riuscito a prevedere Che avrebbero fatto lo stesso Anche alla prossima compagna Che avrò fidanzata Ragazza Che ha poi tutte Queste parole Finte Etichette Figlia Madre Bisogna vedere Che contenitore Avete creato Chi ha sbagliato Gravemente Anche in misura I lavori Non l'hanno fatto apposta E che in Italia funziona Appunto Fatta apposta O non fatta apposta Roba finta Gente che lavora male Lavorano finti Non l'hanno fatto apposta Di crearti quel lavoro Di che Che qua è tutto così E che Queste poi sono le scusanti Ma la capire poi Chi l'ha fatto apposta E chi non l'ha fatto apposta Tanto se muoio Mi ha camorre tu Per il suo bene Tanti soldi Poi c'è un'altra persona Mi avete raccontato Tante cose Sulle mafie Lascia che io vi dico Vi dica Con aggiunta Quello che ho E con soltrazione Quello che io Ho vissuto come esperienza Io ho ascoltato Per anni La mafia Il terrorismo Il bene Il male La destra La sinistra Gesù L'addio Lasciate che vi dico io Se no vuol dire Che siete Dei cosi Dei Dei tiranni E per legge internazionale La tirannia Il terrore Non si può applicare La mafia Neanche Però Quello è profitto La famiglia Sono idee Magari così Sono famiglie Che cercano Di fare il terrore A delle persone Utilizzare una persona Per disseminare terrore Per scaturire Violenze E cose varie È un aspetto Della realtà Molto Ma molto 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 più grave E col tempo Non si Non viene dissipato Dicono le leggi internazionali Vabbò Ci per fare Quello che vi mando tutti Ciao a tutti Non ne ho muscoli E che Forza di non fare nulla Lo spermatozoo Mi esiste Fate voi per me E poi Mi fate sapere Cosa Cosa scrivete Se non mi piace Ve lo prendo E ve lo infilo Nel culo Fatela qualcosa Di vero In questa cazza Di Italia Sempre fesserie Cose false Verità Di parte Il cervello Ce l'avete voi Per imbrogli Per imbrogliare Ce l'avete voi Per cercare di pensare Come potete fare Del male Alla gente Che po' Che po' Poglu Bisacers Grazie.